Nel 2022 il Servizio Sanitario Nazionale ha continuato a perdere punti, in particolare sulla prevenzione. Inoltre si è ulteriormente allargata la forbice Nord-Sud con soltanto due regioni meridionali che riescono a garantire pienamente ai propri cittadini i livelli essenziali di assistenza. Sono queste le due tendenze che la Fondazione Gimbe individua nella valutazione delle prestazioni delle regioni tramite il nuovo sistema di garanzia pubblicata nei giorni scorsi dal Ministero della Salute. Si tratta di una vera e propria pagella per i servizi sanitari regionali che identifica quali regioni sono promosse adempienti, pertanto meritevoli di accedere alla quota di finanziamento premiale, e quali bocciate in adempienti, afferma in una nota il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Rispetto al 2021, nel 2022 le regioni adempienti in tutte e tre le aree di valutazione, assistenza ospedaliera, territoriale e prevenzione, scendono da 14 a 13. Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, provincia autonoma di Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. A retrocedere è l'Abruzzo, che diventa inadempiente a causa del punteggio insufficiente nell'area della prevenzione. Tra le regioni e province autonome inadempienti sono al nord soltanto Bolzano e Valle d'Aosta. Nel 2022 aumenta il gap nord-sud, visto che solo Puglia e Basilicata si trovano tra le 13 regioni adempienti, collocandosi rispettivamente in terzultima e in ultima posizione tra quelle promosse, sottolinea Cartabellotta. Il gap nord-sud si amplia ulteriormente se si sommano i tre punteggi relativi a cure ospedaliere, territoriali e alla prevenzione. Infatti, ai primi dieci posti si trovano sei regioni del nord, quattro del centro e nessuna del sud, mentre nelle ultime sette posizioni, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, si collocano solo regioni del mezzogiorno, aggiunge il presidente di Gimbe. Preoccupante anche il dato sull'andamento delle singole regioni. Nel 2022 quasi la metà ha performance inferiori al 2021, trainate alla ribasso soprattutto dall'area della prevenzione, che su scala nazionale registra una perdita complessiva di 146 punti. Su questo però potrebbe aver inciso il passaggio alla fonte informativa dell'anagrafe vaccinale nazionale, precisa la Fondazione Gimbe.